Il mercato azionario è ufficialmente in modalità panico, solamente la giornata di ieri l'S&P 500 ha registrato a meno 4% e oltre per cento, il Nasdaq un meno 5% e oltre per cento, le mega cap hanno fatto da un meno 6% a un meno 10% bitcoin e le crypto stanno seguendo a ruota. L'S&P 500 in questo momento si trova a quasi un meno 15% dai massimi storici, questo significa che manca solamente un meno 5% per entrare tecnicamente in territorio bear market. Il Nasdaq ovviamente si trova già in bear market ormai da qualche settimana con un meno 25-26% dai massimi storici, quindi la domanda è continueranno a crollare i mercati, si fermeranno, che cosa deve succedere affinché si fermi questo crollo e soprattutto perché dobbiamo tenere ben d'occhio come data l'11 maggio. Come sempre ragazzi è ancora pronta di proseguire con questo video, quello che vi chiedo è se vi piacciono queste tipologie di contenuti, di mettere un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale perché in questo modo mi aiutate tantissimo con l'algoritmo di YouTube e in più mi fa molto piacere. Allora un 2-3 settimane fa circa ho fatto un video nel quale cercavo di mettere in guardia del fatto che la Federal Reserve si sarebbe riunita il 4 di maggio e che al 99% avrebbero alzato i tassi di interesse di 0,5 punti percentuale, cosa che è successa. Però non era una sorpresa, ho detto che le possibilità appunto erano altissime che ciò sarebbe successo, bisognava comunque stare attenti a vedere come avrebbero reagito gli investitori nei giorni successivi, ma anche e soprattutto cos'altro avrebbe fatto la Fed, quali sarebbero state le altre azioni per cercare di fermare l'inflazione. In questo meeting il presidente della Fed, Jerome Powell, ha detto che non pensano di portare i tassi allo 0,75 per almeno un bel po' di tempo. Sono piovute subito critiche da parte di molti che sostengono che Powell non stia facendo abbastanza per ridurre l'inflazione. Il problema però, secondo il mio personale parere, è che in questo momento il caro Jerome ha le mani legate e non può fare più di così. Perché dico questo? Perché se Jerome Powell avesse deciso a sorpresa di alzare i tassi di interesse più dello 0,5%, a quel punto sono quasi certo che il mercato sarebbe crollato, quindi non corretto, ma proprio crollato. Non parlo di un 50%, ma non mi sarei stupito di vedere l'SMP a un meno 10-15% in uno o due giorni. Questo significa che le varie Amazon, Google, Tesla, Apple, eccetera, avrebbero fatto meno 20-25% nel giro di un paio di giorni. Quindi in realtà Jerome Powell sta facendo quello che può. Si può poi obiettare che potevano essere prese a priori delle decisioni diverse per trovarci una situazione migliore, ma in questo momento, ripeto, secondo me ha le mani legate. Perché se avesse alzato di più i tassi di interesse e il mercato fosse crollato, a quel punto avrebbe dovuto tagliare nuovamente i tassi di interesse per far riprendere queste aziende. Quindi sarebbe stato un cane che si morde la coda. Ma in questo meeting si è anche detto un'altra cosa che ha spaventato parecchio gli investitori e che ha causato il sell-off, cioè che entro il primo di giugno la Federal Reserve ha intenzione di ridurre le dimensioni del bilancio. E qui, tranquilli, cerco di spiegare la maniera più semplice possibile che cos'è questa pratica, così che ognuno abbia una visione macroeconomica di quello che sta succedendo per prendere poi le decisioni migliori. Quando la Federal Reserve riduce le dimensioni del bilancio, che cosa significa? Significa che la Fed inizia a comprare titoli di Stato e Mortage Backed Securities, che sono dei titoli garantiti da ipoteche su immobili, e questo lo fa durante i periodi in cui l'economia ha bisogno di un boost, quindi solitamente in periodi di recessione o di crisi economica. Da chi compra questi strumenti gli compra dalle banche, quindi le banche danno alla Fed questi titoli di Stato e la Fed gli dà dei soldi, quindi iniettano in questo modo denaro nell'economia. Questi però sono dei soldi poco costosi, perché sono dei soldi con un tasso di interesse dello 0%. In questo modo le banche possono prestare soldi ai cittadini e alle imprese con un tasso bassissimo, così incentivano le persone e le imprese a chiedere soldi, così che l'economia vada avanti e si riprenda. Ora, questo è stato fatto per via del Covid, ma che cosa succede quando la Fed al contrario dice che dobbiamo ridurre un po' di soldi in circolazione perché l'inflazione è diventata troppo alta, c'è troppo denaro in giro, di conseguenza il prezzo dei prodotti si è alzato, ci sono troppi soldi in circolazione e di conseguenza troppo potere di acquisto. Per non parlare dei problemi della catena di approvvigionamento su cui però la Fed non ha nessun reale potere. Ecco, a questo punto la Fed deve riprendersi questi soldi, quindi le banche restituiscono questi soldi alla Fed e la Fed dà alle banche dei titoli di Stato. Il tasso di interesse per ora non è più dello 0%, ma dello 0,5%. Questo significa che ci sono meno soldi in circolazione, ma le banche non stanno più prestando questi soldi agli individui ad un tasso dello 0%, ma dello 0,5%. A questo punto però i cittadini e le imprese si domandano ma ha senso che io prenda dei soldi in prestito per fare il mutuo, per fare il finanziamento della macchina, per investire nella mia impresa? Dato che per chiedere dei soldi in prestito devo spendere di più e in questo periodo sono anche aumentati i prezzi in generale delle materie prime, si è alzata l'inflazione, quindi mi trovo un po' in difficoltà, ha senso che io faccia questo? Quindi questo è il sistema che ha intenzione di azionare la Fed per rimuovere dei soldi dall'economia. In questo modo la domanda diminuisce, anche perché la Fed può influire solo sulla domanda e non sull'offerta. Questo significa che i prezzi inizieranno nuovamente a scendere in teoria. Quindi tutta questa situazione macro che da un lato sembra necessaria ma che non sembra almeno nel breve meglio termine favorevole alle persone, i cittadini, alle imprese, ha spaventato parecchio gli investitori. La domanda è smetteranno di crollare le azioni, smetterà di crollare il mercato azionario? Allora, il discorso è che in questo momento le big tech stanno subendo una brutta botta. Tutto il mercato, ma le big tech soprattutto. Non aiuta il fatto che le trimestrali delle big tech influenzano tantissimo l'intero indice S&P 500. Non è che siano state proprio ottime. Infatti Facebook non è che abbia fatto un granché Google, discretamente Netflix, Amazon, un disastro. Apple, Microsoft, discretamente. Tesa è l'unica forse che ha proprio spaccato, ma è l'unica che si è differenziata. Ovviamente poi ci sono anche tutta una serie di aziende che devono riportare i loro dati finanziari. Anche poi nel prossimo trimestre bisogna vedere come andranno le cose. Però, se le trimestrali non sono buone, questo non aiuterà i mercati in nessun modo. Inoltre, come dicevo inizio video, in questo momento bisogna stare ben attenti come prossima data all'11 di maggio. Perché l'11 di maggio? Perché l'11 di maggio usciranno fuori i nuovi dati sull'inflazione. E detto proprio chiaramente, secondo il mio personale parere, succederà questo. Se i dati dell'inflazione continueranno a crescere rispetto all'ultimo report rilasciato, a quel punto bisogna allacciarsi le cinture di sicurezza. Perché i mercati, secondo il mio personale parere, potrebbero reagire male. E se non ricordo male, nell'ultimo report l'inflazione aveva toccato il picco massimo dell'8,6-8,7%. Dall'altro lato però, se i dati dell'inflazione dovessero ricominciare a scendere, a quel punto non mi stupirei di vedere i mercati non per forza risalire, ma stabilizzarsi. E poi ripeto, se le prossime trimestrali dovessero essere buone, dovessero fare bene, i mercati potrebbero anche riprendere a salire. Però in questo momento bisogna specificare che non è una buona situazione. Ma ce l'aspettavamo, è mesi che ne parliamo, non c'è nulla di nuovo. Come ho detto, il 2022 sarà un anno molto complicato. Ciò non significa che in questo momento, in questo periodo, non si possa guadagnare nel mondo degli investimenti. Anzi, per esempio, in questo momento sto facendo tantissimo trading. Sto facendo sia trading di azioni, ma anche e soprattutto di cripto, perché seguono molto bene l'andamento dei mercati azionari, ma sono più volatili. Quindi potenzialmente i rendimenti sono maggiori. Chi segue anche i miei video su Bitcoin, sulle cripto, sa molto bene che vado a mostrare regolarmente i miei trades, sia in profitto, sia in perdita regolarmente. Vado anche a dire, prima di entrare in un trade, quali sono i livelli nei quali voglio entrare. La piattaforma che utilizzo è quella di Bybit, di cui trovate il link sotto in descrizione. Anche il video tutorial completo che spiega il concetto di trading a leva e anche e soprattutto come funziona la piattaforma. Tra l'altro, settimana prossima farò anche un video trading a parte, nel quale mostrerò, date alla mano, quali sono i migliori investimenti in periodi di stagflazione economica. Non ci siamo ancora dentro, ma molti economisti hanno già iniziato a parlarne. Quindi ovviamente non dimenticatevi di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per non perdervi questi video. Chiudo ricordando a tutti che solitamente la strategia, almeno per un investitore di lungo periodo, che funziona meglio è quella di comprare, quella di stare sul pezzo in periodi complicati, in periodi di bear market. Perché storicamente chiunque abbia comprato nella borsa americana i vari indici maggiori americani in periodi complicati, in periodi di bear market, nel lungo periodo ha sempre vinto. Quindi questo è molto importante da ricordare. Mi raccomando ragazzi, occhi ben aperti per l'11 di maggio. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto e noi ci rivediamo molto, molto presto nel prossimo video.